Il fascismo e le barzellette. Vi siete mai chiesti quali barzellette erano in voga durante l'epoca fascista? Ce n'è una molto carina che ha come protagonisti Mussolini e D'Annunzio. Ora facciamo una premessa. D'Annunzio era un aviatore, quindi abituato a volare. Mussolini invece era stato bersagliere durante la Prima Guerra Mondiale, quindi abituato a correre. Orbene la barzelletta è questa. Mussolini si reca da D'Annunzio e lo saluta. Salve, ho Fante alato. E D'Annunzio gli risponde prontamente. Salve a te, ho lesto Fante. Non ve la devo mica spiegare, no? Lesto Fante, Fante veloce ma anche lesto Fante, cioè furfante. Vabbè, vabbè, questo è uno spotto a Mussolini durante il ventennio. E io vi saluto, sono sempre il prof Cabano, alla prossima pinzellacchera. Alcune quisquiglie e qualche pinzellacchera.